Nelle Filippine quello che mi ha maggiormente commosso sono stati i gesti del cuore, l'entusiasmo non finto, oltre alla messa a Tacloban, dove mi sono sentito annientato. Papa Francesco ha lasciato il paese asiatico e sul volo di ritorno, durante la consueta conferenza stampa, ha raccontato anzitutto le sue impressioni personali sul pellegrinaggio. Inoltre un'ora di domande e risposte, Papa Bergoglio ha sottolineato che oggi la corruzione, che vuol dire togliere al popolo, è all'ordine del giorno e trova terreno fertile nelle istituzioni, anche nella Chiesa. Siamo tutti peccatori, ha precisato, ma non dovremmo essere mai corrotti. La sposa di Cristo, lontana da ogni forma di mondanità, dovrebbe brillare nella testimonianza e nella vicinanza ai poveri, vittime della cultura dello scarto. Sollecitato ancora sul terrorismo internazionale, dopo la strage di Parigi, Papa Francesco ha detto che la libertà di espressione dovrebbe essere prudente. Non è mancata poi l'occasione di denunciare una forma di colonialismo ideologico che vuole rubare ai popoli la propria identità, così come di apertura alla vita nella famiglia e paternità responsabile. Infine, il pontefice ha fatto il punto sui suoi possibili viaggi, ancora tutti da confermare e organizzare. In occasione dell'incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia potrebbero rientrare infatti anche Washington e New York. Per la fine dell'anno potrebbe trovare posto in agenda un viaggio nella Repubblica Centroafricana e in Uganda. Per quello che riguarda l'America Latina, invece, è possibile Ecuador, Bolivia e Paraguay nel 2015, Cile, Argentina e Uruguay nel 2016.